Anche il Comune di Fano deve essere pronto a gestire eventuali scenari di maremoto e questa mattina la Regione vi ha messi alla prova. Com'è scattata questa esercitazione? Sì, è scattata alle 9 circa di questa mattina quando è arrivato il messaggio dalla Sala della Protezione Civile della Regione Marche che ci ha avvisato appunto che si stava simulando per tutta la Regione Marche un evento di maremoto che si diciamo ipotizzava a largo delle coste della Grecia e che la cui onda avrebbe raggiunto le coste marchigiane intorno a luna di questa mattina. E quindi come tutte le simulazioni ovviamente per verificare che anche gli uffici tecnici del Comune fossero pronti a rispondere a tutte le esigenze della popolazione abbiamo messo in atto tutte quelle pratiche che questa simulazione voleva e abbiamo iniziato a censire le persone coinvolte nella fascia costiera interessata da questa allerta, abbiamo iniziato anche a censire le persone tra queste che erano anziani soli oppure persone con disabilità che comunque avevano bisogno di un'assistenza particolare in maniera tale che nel caso fosse stata vera questa emergenza li avrebbero potuti spostare con una certa priorità in quanto non era possibile farlo con altri mezzi e quindi li avremmo spostati noi. Abbiamo considerato che nel caso di un allertamento di questo tipo le persone da spostare sono circa 259 nel Comune di Fano secondo i dati dei residenti che avevamo e quindi ci siamo attrezzati affinché questo nella realtà si potesse verificare in caso di emergenza. Ovviamente era tutta una simulazione, ovviamente era tutto un test ma è stato utile per verificare la prontezza nei nostri livelli, dopo poco tempo eravamo già sul pezzo e ovviamente per verificare che tutto funzionasse bene. Savero qual è stato il ruolo della protezione civile? Il ruolo della protezione civile è una volta che il Comune ci ha chiamato per l'apertura del COC e noi abbiamo la gestione del volontariato all'interno del COC e quindi abbiamo attivato o attivato in modo particolare l'associazione che sono ricomprese nel Comune di Fano e quindi l'Aeroclub, K9, Mare Dentro, FVM, Salvamento Genova, la Croce Rossa e il nostro CB Club Mattei. La risposta è stata quasi immediata di alcune associazioni tra cui l'Aeroclub ha messo a disposizione in pratica tre piloti e due volontari generici, Mare Dentro ha messo a disposizione due volontari, così anche la Croce Rossa due volontari specializzati per il soccorso e due volontari generici e il CB Club Mattei 12 volontari. Poi abbiamo avuto delle chiamate, delle simulazioni per trasportare le persone da casa all'area d'attesa, in pratica fino all'area di accoglienza. Man mano che i servizi sociali o l'ambito ci ha coinvolti, in pratica ci siamo adoperati per questo. È stata una bella iniziativa, inaspettata e questo è quello che funziona meglio. Sicuramente ci sarà un debriefing e dal debriefing verranno fuori le cose da migliorare, come sempre, se ci sono.